Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre della Pietà, noi ci siamo noi, a cui si amano. Questo è un ottifetto grazie, la vita di sinistra. Quello che le ha mostrato la madre, quello che deve venire da Lucina. Un buon giorno. Passate. Si, lo che sembra, allora. Passi dalla prima figura. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.